L'Ossia di Cristo, L'Ossia di Cristo, Ecce per te, Maria. Noi, dunque, Madre di Dio e nostra, solennemente affidiamo e consacriamo al tuo cuore immacolato noi stessi, la Chiesa e l'umanità intera, e in modo speciale la Russia e l'Ucraina. Accogli questo nostro atto di compiamo con fiducia e amore, fa che cessi la guerra, provvedi al mondo la pace. Grazie. 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 Grazie.